Buonasera e bentrovati al nostro TG Sport. In casa Estrapistoia continuano le presentazioni dei nuovi giocatori. Oggi è stata la volta del pivot austriaco Luca Brajkovic. Dopo Michael Anumba, la Estrapistoia ha presentato ufficialmente anche il centro austriaco Luca Brajkovic, giocatore classe 99, lo scorso anno impegnato nella massima divisione greca. Con l'occasione, la società ha presentato anche la divisa da gioco per il prestagione, a partire dalla sfida amichevole contro la PL Livorno, che si giocherà a massa sabato alle ore 18, con incasso destinato in beneficenza all'associazione Autismo Puania. Prime sensazioni dopo la sfida contro Livorno? Sì, è stata una prima partita, ovviamente non ci conoscevamo bene, però già minuti minuti dopo minuti ho visto un miglioramento, siamo migliorati e non vedo l'ora che inizi la stagione. Che tipo di giocatore è Luca Brajkovic? Una bella coppia con Seelins, una coppia di lunghi che non si vedeva da anni a Pistoia? Sono un giocatore che gioca veramente duro, cerca sempre di vincere, di fare ciò che ci vuole per vincere. Insieme a Seelins penso che daremo tanti grattacappi alle altre squadre perché siamo due giocatori molto bravi e lui è un gran tiratore anche, allora loro avranno grossi problemi con noi. Il campionato italiano quest'anno è ancora più equilibrato rispetto allo scorso anno o sarà dura? Quali sono gli obiettivi della squadra? Non è facilissimo rispondere perché ancora ci manca un giocatore chiave, però con quelli che conosco, gli altri giocatori che aver visto, tutti hanno una mentalità vincente e la mentalità è affrontare ogni partita cercando di vincerla. Eri mai stato in Italia? Qual è stato l'approccio con la città, con il cibo e con la guida? Mi aspettavo tanto dal punto di vista culinario del cibo e devo dire la verità, non sono stato deluso, effettivamente è cibo i migliori del mondo. E a proposito di Estrapistoia, in vista della prossima amichevole, quella con la PL Livorno, a massa è stata presentata questa partita con l'incasso che sarà devoluto in beneficenza. Presso la sala giunta del Comune di Massa si è svolta la conferenza stampa per la presentazione della partita di pallacanesto a scopo di beneficenza a favore di Autismo Puani APS per sostenere il progetto Basket Out che si terrà sabato 31 agosto alle ore 18 presso il Palazzetto dello Sport quando la Estrapistoia affronterà la formazione della PL Livorno che milita nel campionato di Serie B. L'autismo in particolare e la disabilità in generale non sono solo un ostacolo, un problema da risolvere ma sono un'opportunità da dare alla vita di tante persone. Quando si incontrano persone così noi siamo gioiosi, siamo festanti perché capiamo che c'è posto veramente per tutti nelle nostre città e quindi è un motivo di grande consolazione. Per noi è un orgoglio essere nuovamente qui a disputare questa partita con la pallacanesto Livorno dopo due anni e tutto questo è dovuto anche alla relazione che dura da moltissimi anni con l'autismo a Quania, una relazione che ci fa veramente molto molto piacere e ci fa molto piacere poter una volta tanto invece che ospitare loro essere ospitati qui a massa. Può sembrare una frase di circostanza, ripetere che siamo contenti, siamo onorati di essere qui ma in realtà è quanto di più vero si possa affermare. La società PL ha nel DNA, da quando è nata, nella nuova compagine, assolutamente essere inserita nel tessuto sociale, avere contatto con le persone meno abili, meno fortunate e avere una sensibilità accesa verso tutti quelli che sono i problemi del sociale. Abbiamo dall'anno scorso già puntato in maniera molto forte con il nostro progetto Insieme per il Sociale per sensibilizzare tutta l'attenzione pubblica e non solo per quanto riguarda iniziative come quella che andremo ad affrontare sabato con una evidenza benefica non indifferente. Quindi siamo sempre disponibili ad essere presenti, a fare la nostra parte e faremo di tutto per favorire ulteriori iniziative anche all'interno della Lega Basket Serie A. E di Estrapistoia torneremo a parlarne anche questa sera in occasione dell'ultima puntata di Sport, ed è stata una puntata da non perdere. E andiamo a parlare di calcio adesso in Serie D, nell'ultima amichevole estiva è arrivata la vittoria per la Pistoiese contro la Fortis Juventus, una squadra di eccellenza a Borgo San Lorenzo e Ghiarancioni hanno vinto per ben 5-0. Una partita dominata dalla squadra di mister Giacomarro che ha segnato tre reti nel primo tempo con Malocu, Lairib e Tascini, poi nella ripresa la doppietta di Cardella. E c'è stato anche un rigore parato alla Pistoiese a Corvino. Un altro buon test, risposte positive per il tecnico arancione in vista della prima uscita ufficiale, quella di domenica in Coppa Italia, sul campo del Sandonato Tavarnelli. Allora andiamo a sentire proprio Giacomarro che parla anche della sfida di Coppa Italia. Abbiamo finito le amichevole, adesso tra 4 giorni si incomincia a fare il sosseo, perciò siamo pronti per questa avventura qua a Pistoia. La squadra sicuramente è carica perché abbiamo lavorato intensamente questo pre-campionato, ma adesso gli stimoli, le motivazioni sono tante, perciò dobbiamo dare soddisfazione a tutti. La filosofia che cerco di inculcare ai miei giocatori ha bisogno di tempo, perciò anche nella fase d'attacco si sono viste delle giocate importanti, delle giocate dove tutti sono partecipi, tutti possono andare a fare gol e perciò questo è andato di fatto importante per la squadra. Incominciano a memorizzare, incominciano ad assimilare tutto quello che voglio io e perciò è normale che dopo la prestazione aumenta di livello e questo dobbiamo fare anche fra domenica prossima quando andiamo a giocare in Coppa Italia che è l'anticamera del campionato e perciò noi dobbiamo dare sempre il massimo per cercare di migliorare partita su partita. Come l'abbiamo visto anche inamitevole, è una squadra rapida, è una squadra veloce, è una squadra che ha già fatto delle buone prestazioni e sicuramente hanno una gamba di figlio di quella nostra, però ripeto, quando ci sono motivazioni importanti, quando noi, essendo la Pistoia, essendo una squadra nuova, una squadra che ha grande motivazione per arrivare in alto, è normale che queste partite vanno affrontate con il figlio giusto perché sennò ho il rischio di fare brutta figura e soprattutto a noi ci serve anche per cercare di migliorare e partire bene anche il campionato. È tutto per lo sport, restate con noi per tutti gli altri ulteriori aggiornamenti e una buona serata.